Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay del mio walkthrough su Guardiani della Galaxia, Marvel's Guardians of the Galaxy. Eccoci qui, siamo sempre con Peter Quill e siamo all'inizio del capitolo 3, mentre i Guardiani continuano a parlare tra di loro, a rompere le palle, perché Drax vuole sapere dove Rocket tiene nascoste le unità e tutte le noccioline a quanto pare. Quindi, andiamo a svolgere la missione del capitolo 3, nello scorso video avevamo finito il capitolo 2 e avevamo anche iniziato a dare un'occhiata in giro nella nave, a sbloccare dei collezionabili, dei dialoghi praticamente opzionali. Direi di fare l'ultimo che ci avevamo lasciato indietro, entrando qui dentro, questa è la stanza di Quill, però mi sa. Però ecco, esatto, qui possiamo prendere questo braccialettino qui. Nel frattempo vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi sta piacendo, se il videogioco vi sta piacendo, di commentare e facciarmi sapere cosa ne pensate sia dei video sia del videogioco e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Condividete anche questo video a chiunque può essere un fan di questo videogioco. Ecco qui il dialogo segreto con Camora. Con chi parli? Cos'è un uccello blu? Era il nome in codice di Yondu, lui era uccello blu e io ragazzo. Fammi capire bene. Yondu Udonta, leader dei pirati spaziali Ravager, flagello del sistema Sirius e l'urida canaglia usava uccello blu come nome in codice. Se l'era anche fatto ricamare sulla giacca. Fantastico! Lo era, fin dal giorno in cui ci siamo incontrati. Come vi siete incontrati? Terrestri e centauriani non sono proprio vicini. Ci siamo incontrati su Ketauri Prime, scontavo tre anni di condamma. Aspetta, era un prigioniero di guerra. Credevo che i Ravager fossero neutrali. Lo erano e non lo erano. Il codice dei pirati o fratelli incatenati? Il codice dei pirati. I Ravager seguono un codice semplice, derubare tutti. Questo per Yondu li rendeva neutrali. Ma non lo erano. Ricordo gli attacchi a diversi trasporti Ketauri quando ero ancora... Beh, hai capito. Hanno attaccato altre tante navi della Resistenza. Finché un incrociatore Ketauri non li ha bloccati durante un raid e... Yondu è finito su Ketauri Prime, con te. Dopo l'evasione avrebbe potuto lasciarmi su una stazione spaziale o nella base Nova Corps più vicina, ma non l'ha fatto. E invece mi ha chiesto di diventare un Ravager. Sei stato a lungo con loro. Devi esserti divertito. Sì. Con i Ravager mi sono sentito per la prima volta a parte di qualcosa. Non so come spiegarlo. Mi sono sentita così con Richard Ryder, nella Resistenza. Era come se fosse finalmente ciò che volevo essere. Ovviamente non è nella mia schiera grafica perché è una 3080. È proprio il gioco che ha qualche glitch grafico. E entrare a far parte di una grande famiglia di disadattati. Il che, ora che ci penso, farebbe di Yondu il mio... Padre spaziale? Poteva andare peggio. Eravamo compagni di cella. La prima cosa che ha detto quando l'hanno messo nella mia cella è stata Ragazzo, non affezionarti troppo. Sono qui solo per il cibo. E il cibo era disgustoso, così... Già, è proprio da Yondu. Aveva avuto altri compagni di cella e nessuno era durato a lungo. I chitauri hanno questi... Giochi tra gladiatori e... Ti sei abituato ai morti. Quello non saprei, ma... Non mi aspettavo che le persone resistessero a lungo. Allora non avevo nemmeno l'impianto di traduzione, quindi era come essere soli. Ma Yondu parlava la mia lingua. Si è offerto di fare il traduttore per qualche razione extra. Quindi era un opportunista anche in quel buco nero pieno di rettili. Era un elemento che ci univa. Progettavo un piano di fuga sin dal giorno in cui mi hanno preso. Per realizzarlo mi serviva uno come Yondu. Come siete scappati? Oh, sì, certo. Io ovviamente si è triggerata alla fine del dialogo. Ma questo l'abbiamo fatto. Bene, bene, bene. Vediamo se ci sono delle unità da qualche parte. Tre. Davvero? 37 unità? Beh, ci mancano ancora 6963 unità. Se non vogliamo perdere la nave, Peter... Lo so, lo so. È ovvio che ci serve un piano. Puoi rivalutare la mia proposta iniziale? Oh no, ancora con Fin Fang Fum. Sì, andiamo a caccia di Fin Fang Fum. Drax ci sono modi più facili per fare soldi. Tipo se vendessimo la roba di Gamora? Cosa? Eh dai, è da quando viene in giro con noi che accumuli ogni sorta di stupidi gingilli. Non mi dirai che non valgono niente. La zona di quarantena era solo un pagliattivo. Le mie statuette non sono dei gingilli. Ah, la squadra è nei guai. E tu fai delle storie per un piccolo sacrificio. Potrei sacrificare la tua testa? E portaci alle maestose montagne di Cacarazzo. Ragazzi! Sempre tirare in ballo Groot. Groot per una volta. Io sono... Groot. Tac. Dice che dovremmo... combinare le due idee. Vendere i ninnoli di Gamora a Fin Fang Fum. È geniale! Sì, come no. L'unico difetto del tuo piano è che Lady Elvender compra soltanto mostri. E tu non sei un mostro! Non lo è. È il più tenero, il più... Io sono... Groot. Invece no. Non è mica una cosa che puoi fingere. Io... Sono... Groot. Ma sì? Vuoi vedere un mostro? Te lo do io, il mostro! Oh, ragazzi! Groot, non starai davvero proponendo... No, no. Non sto proponendo niente, ok? Può funzionare. Vendere Groot. Potremmo sempre farlo evadere. Assurdo. Lady Elvender cerca i mostri dell'anima. Una piccola creatura orrida è la scelta migliore. Una creatura crudele, sadica, dall'animo marcio e iracondo. La regina dei mostri pagherebbe cifre immense. Immense? E quanto? Come puoi essere d'accordo? Perché so che cosa sono. E so quello che lui non è. Io sono... Groot. Io dico vendiamo Groot. Credo proprio che Lady Elvender sceglierebbe lui. Sì, beh. Io voto per non Groot. Anch'io voto la creatura raccapricciante. Due voti a testa. Peter? Io opterei per vendere Rocket. Beh, l'anima di Rocket è decisamente più spaventosa. È instabile, violento e incurante dei bisogni altrui. Ok, abbiamo capito, Quill. Allora, il punto è che tu saresti un mostro perfetto. E quel tuo cervellino strategico sarà utile alla fine per farti evadere. Ma per essere sicuri al 100%, confermi di essere d'accordo? Eh, ma scherzi. Non vedo l'ora di fartela pesare. E va bene, è deciso. Andiamo a vendere un mostro. Ok. Quindi la storia avanza in questo modo. Vogliamo davvero infilarci lì dentro? Dicono che il clima di Seknarf 9 cambi in base all'umore della sua sovrana. Non funzionano così le donne. Neanche il clima. Comunque scommetto che non è male come sembra. Eccola, la fortezza di Lady Elven. Portaci più vicini, Quill. Non mi va di camminare lì. Sì, no problem. Guidi dalla parte sbagliata. Non sta guidando per niente. Calma gente, è soltanto tu. Non è ottimizzato molto bene su C-C, eh. Per niente. Specialmente durante i filmati. Un gioco da ragazzi. Cos'è uno scherzo? Cosa? Almeno possiamo darci un'occhiata in giro prima di completare la vendita. Saremo a 100 click dalla sua base. Sai che mi piace guardarmi in giro. No. Ok. Possiamo discutere delle unità di controllo spinale nella stanza di rocket. Dovrei direi di farlo. La stanza di rocket qual è? Questa è? Ma l'avevamo già fatto, no? Non mi stupisce affatto che rocket sia così. Ti l'avevamo già fatto, sì, sì. Perché non facciamo mai missioni su pianeti caldi e asciutti? La foresta di Paramatar? Ok, proviamoci. Vi ho mai confessato che detesto la pioggia? Il castello di Elbender non è tanto lontano. Quello non è un castello, è una fortezza impenetrabile. Come facciamo a penetrarla? Vieni a Peter! E fra tempo avviciniamoci! Ma cosa ci verrà in mente? Non c'è niente da capire. Come mercanti di bestie sarà semplice incontrare Lady Elbender. Bene! La bestia ce l'abbiamo già! Ora mancano solo i mercanti! Per fortuna che mi sono messa il costume da mercante! Stai prendendo in giro? Vero? Se devi chiedere, non lo metterò. Wow! Quei fulmini sono davvero pazzeschi! Mai visto niente di simile! È un suicidio meteorologico, ecco cos'è! È bello che scivolino in giù anche loro! Arriva anche Grutte! Ehi, la giacca è a posto? Almeno tu una giacca ce l'hai! Io mi sto inzoppando! Non lagnarsi e cammina! Ehi, Temporalord! Vuoi veramente andare a piedi? Ci mettiamo una vita con questa pioggia! Basta lagnarti! Le avversità tempereranno il tuo spirito! Non è una camminata! È una gita! Wuhuu! È escursione di gruppo! Vuol dire la stessa identica cosa! E dai, almeno non ti annoierai! Ok, gente! Stiamo attenti a non cadere! Da qua è tutta dritta! Da! Cos'è? Non cadete! Andrà tutto bene! Giusto! Sfidiamo l'ira di Lady Alvander a testa alta! Sembra quasi che voglia farti colpire da un fulmine! Non mi aspetto che una traditrice dei Kitauri capisca il valore intrisico! Il valore intrisico del farsi ammazzare? Alla mossa Lady Alvander! Quindi stiamo andando avanti? Sì! Ragazzi! Concentrazione! Occhio a quelli blu e mettetevi a riparo quando colpiscono! O ci spazzeranno via! Ottima idea! No, dai! Dove che dobbiamo andare? Doviamo andare là? Ok, potrebbe essere più pericoloso del previsto! Ma il pericolo non era la tua vita! Non mandiamo a morte! Al primo di voi che muore! Le donna su una nave! Ma dai, io ero dietro! Eh, ci starebbe in realtà! Arriba! Ah! Sembra che stia cercando di colpirci! Sei sicuro di non esserci mai uscito? State bene! Saremmo dovuti andare su Macro 4! Ehi! C'è una vecchia nave della Resistenza! Con la Brodor Mike! Sarà stata questa qua insieme ai suoi amici di Tauri! Non eravamo amici! Ma ragazzi? Io sono Groot! Stai, è uno slime! Ma non si muove più! E cosa dentro? Una stella! Eh, sono uscito vivo da mezzo mondo! Secondo te ho paura di uscire! Non è da solo! Attenzione! Fammi discansionare! Allora, in grado di coprire ampie distanze per attaccare in massa, eseguire manovre evasive e concentrare il fuoco! Lo strato esterno gelatinoso è vulnerabile al congelamento! Quella cos'è? Interazione! Oggetto ad alta densità, l'Italia si è lanciato! Vai Drax! Non riesco a fermarlo! Anche questi nuovi mostri cadranno sotto i miei colpi! Risotto che la morte dei loro simili mi avrebbe terrorizzato! Melatina all'assorto! Da! Nel tempo, Smur! Accidenti! Non sono pescigliosi! Non so dire cosa saranno! Morsi! Scuartateli! Basta col... Arriva qualcosa di amputito e letale! Spilettali! Grazie a tutti! Non hai alcuna speranza! Avvora! Affrontami! Eh? Cominciamo a non aggaiarmi! Felice di farti divertire! Dai! Non riesco mai a fare... La ricarica è giusta! A me è il maesterno! Occhio! È molto affilato! Ben sai che ricarici! Bella lì! Bella lì! Andiamo fuori dal santuario di Lady Elbender! Queste creature non sono sue! Sono cibo! Sì! Ne hanno tutto l'aspetto! Brighiamoci o diventeremo noi! Ehi guardala aspetta! C'è un sentiero che attraversa la giungla! Come si sale? Cercate di risalire! Più pratico scalare il guscio che la fanghiglia! Non mi piace molto chiamarlo guscio visto che stiamo per salirci sopra! Infatti non è un guscio! È un guscio vuoto di un'era passata quando la guerra infuriava più tremenda dei venti di questo mondo! Io dovrei far spostare a Drax questa roba, no? Perché non lo fa più? Devo prima scansionarla? O devo scansionare quello? Hai sentito anche voi? Sentito cosa? Sarà stata la pancia di Drax! Ti diverti? Mai pensato di sparare a una nave della resistenza? Drax, puoi estrarre il reattore con delicatezza? Ok, metterlo se rola! Non è costabile il ratto gli avrebbe già sparato! Osservazione eccellente! Devo continuare a distruggerlo? No, no! No! Direi che ci siamo! Che ci fa qua giù una nave della resistenza comunque? Non fa niente! È chiaramente precipitata Voglio dire che ci faceva La guerra non sarà mica arrivata fin qua Bene! Siamo a metà strada! E adesso? Forse se potessimo abbassare quell'ala La fanghiglia ha un odore bizzarro Colpa di quelle gelatine! Mi sa che... Ecco! Vado in avancoperta! Vedete di non ammazzarvi mentre risalite! Eccoli qui! I controlli... Ok, Rocket! Il pannello di controllo dell'ala è tuo! Spero funzioni ancora! Ottimo! Occhio se ci sono luci rosse e lampeggianti! Ma sa... Perché? È una nave della resistenza! Ci va bene se c'è solo una trappola esplosiva! Sui generale! E per adesso è tutto abbastanza guidato! Là c'è Gamora! Ma di qua mi piace c'è mica quel collezionabile! O quei materiali! Questo cos'è? Ah, un oggettino! Una storia! Ok! Boost Goal! La guerra tra la resistenza e l'uridichi Tauri in furia! Ok, queste le leggeremo proprio avanti eh! Se mi metto a leggere ogni volta che le trovo, buonanotte! Però, eccoli là i materiali! Eh, perché lasciarli indietro scusa? Ci servono per i potenziamenti! Lo stami della Bacta! E di qua qua non si può andare più da nessuna parte, no? Non credo! Ok, probabilmente non troveremo tutti i collezionabili eh! Perché sono tantissimi! E io non mi metto a cercarli! Dovevo tutti, tutti, tutti! Se li trovo bene, se no... Attenti! Di qua è passato qualcosa di grosso! Iai! Indovino! Una specie di mostro orrendo! Indovinato! Bravissimo! Possibile che non sappia che siamo qui! No! L'unica domanda è... Chi attaccherà per primo? Beh, forse... Non ci attaccherà! Mmh! Sicuro di volerti perdere proprio qui? Tranquilla! Do solo un'occhiata! Opustola secco per la mandana! Scultura del santo protettore! Ok! Sto esplorando un po' in giro eh! Il mitico serraglio di Lady Elbender! Già! Immagino! Aha! Altri materiali! Strano che abbiate mai visto! Io ho un righelliano mutato dalla covata! Eh! Qui c'è un passaggio però! Uh! Misterioso! Ho trovato qualcosa quel? Sì! Una specie di grotta! Forse c'è un tesoro nascosto! Forse non ironicamente l'ho visto là! L'ho visto là che c'è un tesoro nascosto! Li abbiamo anche... Quelli cosa sono? Uova? Grappolo di uova! E infatti! Appena schiuse tra l'altro! Bene! Combattimento! Io vado a prendere questi materiali qui! Questi sono quelli che vanno distrutti così! Sì! Ok! Belle le uova di mostro! Ok! Ok! Sigo tardi! A chi stiamo sparando? Solo un paio di gelatine! Ci ho pensato io! Porca! Già sapevo che dovevo scendere prima! Aspetta! Tu dove sei? Caverna con le uova! E tu? Bene! Passaggio segreto! Tutto a posto lì dentro? Sei morto, Peter Quill! Ho solo mortalmente ferito! Basta preoccuparvi! Sono vicino, Quill! Urla molto forte se trovi un altro di quei budini! Non mancherò! Ehi! Senti! Ora che siamo da soli! Che c'è? Hai da fare ora! Torna nella caverna principale quando hai finito di esplorare! Oh, ecco qua la cesta! Questo è un collezionabile, no? Costume per Gamora? Sì, costume per Gamora! Dici che Drax e Gamora si sono già ammazzati a vicenda! La vera domanda è chi vincerebbe! Ho preso anche un bel po' di... Collezionabile! Devo dirti una cosa! Cosa devi dirmi? C'è una cosa personale! Un peso di cui voglio liberarmi! Va bene, dimmi tutto! Senti! Non è facile dirlo, quindi lo dico e basta! Mi sa che sto morendo, Quill! Anche con questi... Razzo di potenziamenti! E se il cielo è cos'altro! Voglio... Voglio che ti occupi di Groot quando non ci sarò! Oh! Non stai morendo, Rocket! No! No! Dico davvero! Sto... Sto morendo di brutto, Quill! Cioè, dico... Guarda come sto... Hai toccato il fuoco e ora scavi! Perché? Fa ridere! A te non fa ridere? Non fa ridere! Dove sta andando poi? Siamo per vendermi alla regina dei mostri! È come se fossi morto! Eh, giusto, bisogna andare di qua! Che succede se qualcosa va storto? Eh? Chi si prenderà cura di Groot? È questo che intendete! Sa che se succede qualcosa, giuro che mi prenderò cura di Groot, come se fosse mio... Il mio figlio di Lenno! Promesso! Grazie a quel! Forza! Prima arriviamo da Lady Elbender, prima possiamo pensare a come pagare quella stupida multa! Ma fai facile! Tu non stai per essere messo all'asta! Ok, quindi quella parte era proprio secondaria del tutto, cioè... Cioè, solo per i collezionabili... Sicuro, Drax? No! Ottimo! Orgoni della rosa di Seknarf? Possono distruggere? Non credo... La creatura deve pesare più di tutti noi messi insieme Compreso Groot! Questo lo facciamo distruggere a... Boh, lei? Sì, ok... Perfetto! Andiamo avanti ancora un po', poi l'episodio finirà, eh! Siamo intorno ai 30 minuti Dove hai imparato tale preveggenza, assassina? Eh? Non sai seguire una pista? I cantatiani non inseguono la preda La attirano e attendono il momento di colpire Dobbiamo uscire da questa giungla Perché? Qui è asciutto Non è meglio essere umidi che smarriti? Non è detto Questo posto è un labirinto E gli alberi sembrano enormi fili di caramello salato Che dici, chiediamo indicazioni? Forse sono loro stessi le indicazioni Davvero? Oh, tipo una specie di segnavia Non dico che sia una freccia con suo scritto fortezza Ma le statue indicano civiltà E l'unico insediamento che ho visto da sopra Era la fortezza di Lady Elbender Ok, lei va di là Quindi qua mi sa che è appunto Una strada segreta Un collezionabile O meglio dei materiali Va bene Ci servono materiali Abbiamo visto che per potenziare Servono un bordello di materiali Tantissimi Scultura del nascondiglio Muro invisibile qua Questa giungla è maestosa Se vuoi dire che tutto cerca di ucciderti Sì È precisamente questo Guarda lì Come si raggiunge quella parte Provo a fare un po' lo sneaky sneaky Ma non penso Funzioni Dovrò andarci da dietro, no? Da qua Oh Ah Tacolo cieco Fantastico Quella è tecnologia Chiega Chiedi ai chitauri No no Lo è È un ponte retrattile Li usavano anche nella mia prigione Peccato che i comandi Siano dall'altro lato Di una voragine Non c'è tempo per bichellonare Nella giungla Scaglierò la bominio Oltre la visso Che attivi il po' Ah sì Beh io posso attivare un buco Nella tua faccia Mettimi non che ti fu ribonto perché ha permesso a Drax di lanciarlo che strozzo ok ma io voglio andare a prendere quel cacchio di materiale ah ecco vedi da qua qua si passa no aspetta forse da qui ci arrivo dai portocane come si fa ad arrivare lassù coppi di guardiani aiutatemi no da là si può arrivare magari da là no non credo proprio ci si arriva da qui in qualche modo ci si arriva da qui dite che queste sono statue dei mostri del pianeta sono di pietra grazie dico che forse è per questo che vende rama i mostri l'ennesima panorica svitata dai portocane è lì è lì quel materiale da arrivaci arrivaci ci è arrivato dai baghiamolo baghiamolo no si si sto bene che problema hai prendi per i contelli mi hanno appena lanciato oltre un burrone meglio che chiedersi quello mica un attrezzo dei costruttori che puoi tirare addosso alle cose o dentro a un buco quando devi riparare come fai ad arrivare qui sopra io mi sto da più dietro magari non credo a questo punto però qui è tipo un muro invisibile ah qui tra l'altro abbiamo dei materiali che non l'abbiamo raccolto qui no qui non si può passare oh e non è possibile arrivare là non so cosa farci quel materiale rimarrà per sempre lì non so che chi ha un po' di cervello non adora niente culture del nascondiglio posso distruggere la strada non penso posso farmi aiutare qualcuno qui avrei potuto farmi aiutare da Gamora quando loro erano ancora qua però ormai sono là ok ma a questo punto prima di andare là dove immagino ci sia magari una sorta di boss fight o comunque dei nemici direi di finire quel video grazie a tutti per aver seguito questo video io sono felicissimo di star giocando questo gioco perché è davvero interessante tra l'altro qui sotto aspetta aspettate no finiamo dato che qui abbiamo delle cose interessanti da prendere può scendere magari ancora forse si forse si forse si sconsoliamo anche questo punto telescopico ok bene detto ciò davvero il video finisce qui vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Grascial Sphere è tutto al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti